Dall'impegno con il Tiguglio la Futsal San Giovannese è uscita con più di un problema di formazione. Pasquo e Liburdi sono squalificati per la trasferta in Sardegna in casa dell'Elmas. Pisconti resta in dubbio per un problema fisico. Quindi la rosa è ai minimi termini, dato che la logistica è decisamente sfavorevole anche per il costo aereo del trasporto. Meno male che i 19 punti attuali risultano un ottimo calmante. È una trasferta quasi proibitiva, tra virgolette diciamo. Meno male che abbiamo raggiunto la salvezza prima di questa partita perché sennò sarebbe stata dura. Andiamo contati, contati, speriamo di recuperare almeno Lino perché già si farà sentire l'assenza di Liburdi, l'assenza di Mattia. Speriamo che ci sia anche il mister in prima, Massimo e Massimo, la notoria, perché sennò diventa davvero proibitiva la cosa. L'ipotesi per la gara di sabato è una novità assoluta dal punto di vista tattico. Ho parlato prima con Massimiliano e mi ha detto che sabato andremo là a giocare, riporteremo il movimento sfalzato per tenere di più il possesso palla. Andiamo là e ci proviamo, proviamo.